facciolini pam fini non c'era a quinta a tonnellate di questa merda nel frattempo i contadini in cui si era fatto balenare il miraggio di una terra bombergata potevano attendere i socialisti rivoluzionali non tardavano a rendersi conto questo stato d'animo di disillusione nel congresso di reggio emilia del luglio 1912 la corrente riformista che dal 1908 deteneva la maggioranza nel partito fu sci battuta quelli dei suoi esponenti che come il bisolatti e il bonomi si erano pronunciati a favore della guerra furono escursi e la direzione dell'amante venne affidata al giovane mussolini qui si riversò nella sua nuova attività tutte le sue notevoli qualità di tribuno riuscendo da triplicare la tiratura del giornale l'ondata di radicalismo e di insofferenza che montava dal fondo del paese preoccupò gioliti e l'incognito delle prossime elezioni le prime a soffragio universale nella storia d'italia lo indussero a non ostacolare numerosi accordi che i candidati liberali stipularono con i cattolici in base a questi accordi nei collegi in cui si profilava possibile una vittoria di un socialista di un repubblicano di un radicale i cattolici si impegnavano a votare in favore dei candidati liberali non senza peraltro scusate un problema tecnico non senza peraltro abbiano ottenuto la garanzia che essi non avrebbero votato al camera in favore di provvedimenti quali il divorzio e l'abolizione dell'insegnamento religioso nelle scuole con questo al cosiddetto patto gentilone dal nome del presidente dell'unione elettorale cattolica a elezioni avvenute da parte cattolica ci si poteva vantare che ben 258 candidati ministeriali eletti lo avevano sottoscritto in effetti nelle province del settentrione ma dove i socialisti avevano le loro posizioni più forti e clero aveva conservato un notevole ascendente sulle masse l'apporto dei voti cattolici era stato cospicuo nel mezzogiorno invece si è ricorsa a mezzi più sbrigativi grazie a tutti